Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di il dottor Covid, l'esperto risponde in diretta. Il tema di oggi è diabete e Covid e come nostri ospiti illustri abbiamo Concetta Suraci, diabetologa e past president di Diabete Italia, buongiorno, e Daniela Boresi, giornalista. Diabete e Covid abbiamo deciso di trattare questa tematica perché ci troviamo in una settimana molto importante, perché sabato il 14 novembre è la giornata mondiale del diabete. Noi abbiamo appunto ospite oggi Concetta Suraci che oltre a essere diabetologa è anche past president di Diabete Italia e noi questa settimana abbiamo molte iniziative organizzate con Diabete Italia e è un tema molto importante e se vogliamo, mentre raccogliamo le prime domande dal pubblico, già ne abbiamo alcune, ma invito il pubblico a mandarmi al numero dietro di me e nei commenti di Facebook domande da fare in diretta, inizierei a chiedere a Concetta Suraci di parlarci della giornata mondiale del diabete di questa settimana e insomma introdurre il tema di diabete e Covid, soprattutto in questi tempi. Prego, per parlare devi aprire l'audio. Sì, grazie, buongiorno a tutti, ben collegati, mi fa piacere partecipare a questa riunione, a questa sessione, a questo incontro tra amici direi. Sicuramente l'esperienza che ho maturato in Diabete Italia mi ha portato ad avere, a migliorare i contatti che già avevo come sanitario con le persone con diabete. Giornata mondiale del diabete è una giornata di sensibilizzazione, dovrebbe essere dell'opinione pubblica e quindi non solo delle persone con diabete che sicuramente hanno già esperienza, ma anche di quelli che non hanno il diabete o che non hanno nessuno vicino con il diabete, cosa che di questi tempi non è facilissimo, proprio per affrontare i problemi che queste persone possono incontrano ogni giorno. Quindi la giornata mondiale del diabete è da un lato rivolta a chi non è diabetico, a chi è diabetico e non sa di averlo e adesso vi darò un po' di numeri perché sono abbastanza le persone e invece le persone che hanno il diabete per migliorare la loro cura, in modo da poter avere una qualità di vita buona o accettabile al massimo, questo potrebbe essere. Parlavamo dei numeri, questi sono gli aggiornamenti. L'IDF che è l'organizzazione internazionale del diabete che nei prossimi giorni pubblicherà le nuove, l'aggiornamento, in ogni caso l'ultimo è a fine e in occasione della giornata mondiale dell'anno scorso, parla di 463 milioni di persone nel mondo, cioè una persona su 11 e soprattutto guardate che riguarda, e questa è una cosa importante, anche i bambini, gli adolescenti. In Europa invece le persone sono circa 59 milioni e vedete che accanto vi ho detto di quanto aumenteranno, saranno 66 milioni in Europa. Se vediamo in Italia nel 2017 le persone che dichiaravano di essere diabetiche erano circa 3 milioni e mezzo e potremmo arrivare nel 2030 a 5 milioni. I dati nostri vanno al, che fornisce l'osservatorio Arno, qui li abbiamo un po' contati, abbiamo fatto una stima e sono circa 3 milioni e 750 mila. Se andiamo avanti con la prossima diapositiva, in Italia, se avevamo detto che nel mondo 1 su 11 in Italia è 1 su 16, quindi stiamo un pochino meglio. Però c'è da dire che ogni 3 persone con il diabete ce n'è una che è diabetica e non sa da averlo e questo è importante. Queste persone noi cercheremo di invogliare a fare dei controlli e andare a verificare se hanno il diabete. Quando non c'era il Covid negli altri anni era questa l'attività della giornata mondiale del diabete ad andare a fare lo screening per individuare queste persone. In realtà ci sono dei questionari che si trovano sui vari siti e dove uno può vedere quanto è a rischio e quindi eventualmente verificare l'esistenza già di un diabete. Ma ancora per ogni persona con diabete diciamo ha un alto rischio e quindi complessivamente pensiamo se sono 3 milioni e mezzo, più di 3 milioni e mezzo che hanno già il diabete ce ne sono altrettanto che probabilmente o lo sono lo stanno per diventare. È una pandemia che forse è ancora sostossimata. In questo periodo parlare di pandemia non è bellissimo però è così. Vogliamo... c'erano alcune... o facciamo delle domande oppure quali erano le cause? È arrivata una domanda e quindi ci terrei a rispondere in diretta. Allora uno spettatore anonimo ci scrive quali potrebbero essere le complicanze maggiori sia per le persone con diabete che non dopo aver vissuto la malattia del covid e mi ricollego un'altra domanda che c'è arrivata che dice ho sentito che i diabetici sono a rischio per l'infezione da covid-19. È vero? Io ho un diabete che tratto con sola dieta da circa cinque anni e rischio di ammalarmi di covid più facilmente. Diciamo che da queste domande che arrivano i malati di diabete sono giustamente molto preoccupati della pandemia che stiamo vivendo a livello mondiale è quella da covid perché anche il diabete è una pandemia. Clara se posso aggiungerne una così? Allora la domanda chiede in questo momento in cui molti ospedali stanno riducendo le attività ordinarie è facile fare diagnosi di diabete o c'è il rischio che un diabetico, uno che sospetta di avere il diabetico venga rimandato? Leggiriamo tutte la dottoressa su Raci. Allora cominciamo per ordine ormai è sicuro che la persona con diabete non ha non è più al rischio di contrarre la malattia o di essere contagiata il problema è che sicuramente la persona con diabete soprattutto e questo tendo a sottolinearlo se non è in buon compenso metabolico quindi se non ha le glicemia a posto se un po' scompensata ha la possibilità di manifestare per esempio la malattia o di manifestarla con sintomi o di avere addirittura delle situazioni gravi. In realtà il report purtroppo anche l'ultimo del 3 novembre dell'Istituto Superiore di Sanità dice che un 30% delle persone che purtroppo hanno perso la vita sono diabetici ma soprattutto perché sappiamo bene che le persone con diabete frequentemente hanno anche altre patologie per esempio la pressione alta malattie cardiovascolari o sono obese bene ognuno di queste voci è come se desse un aggravamento della situazione quindi in questo senso è un problema mi dicevano se ci sono delle complicanze future se uno supera il la manifestazione il covid speriamo che venga superato in realtà delle complicanze specifiche non ce ne sono in realtà faccio un accenno si sta studiando si sta valutando se un'infezione da covid nella persona non diabetica possa creare una reazione immunitaria e quindi andare poi nel tempo a attivare quella che è l'insulite cioè una manifestazione immunitaria a livello del pancreas e quindi ipoteticamente provocare un diabete di tipo 1 diciamo quello che possono avere i bambini sono degli studi molto ancora non completi e soprattutto ci sono dei dati in un verso o nell'altro quindi per ora starei abbastanza tranquilla l'altra pezzo di domanda se ricordo bene riguardava il discorso della diagnosi certo in questo momento con gli ambulatori di diabetologia che non sono diciamo attivi al cento per cento è un po' difficile i medici di medicina generale potrebbero aiutare ma sono anche loro sovraccariti e soprattutto in alcune regioni in alcune situazioni cominciamo a vedere che anche la possibilità per esempio di fare un esame di laboratorio la semplice glicemia potrebbe creare dei problemi quindi direi uno di stare attenti a quali possono essere i sintomi di un'insorgenza di diabete ed è diverso tra l'altro se è in età pediatrico nell'età oscenziale il discorso della comparsa di un diabete è sicuramente da individuare prima perché veramente mette a rischio quindi il famoso tanta pipì tanta sete nei bambini va subito allertata contattato il pediatra eventualmente portato in ospedale in pediatria perché lì non ci sono problemi quindi il rischio che si corre è sicuramente maggiore per quanto riguarda la persona adulta sicuramente i sintomi a parte la possibilità eventualmente e in questo senso i farmacisti sono molto collaborativi per esempio di fare una glicemia capillare quella col diciamo con lo strumento col glucometro anche in farmacia ma poi i sintomi sono per esempio ancora una volta il fatto di urinare tanto delle infezioni che a volte possono essere a livello vaginale o urinario e una stanchezza e questo potrebbe portare ma evidentemente ad un diabete già ben manifesto l'inizio del diabete è solamente un discorso quindi una diagnosi precoce è quella che vogliamo è solamente un discorso di prevenzione e quindi se si pensa che un soggetto a rischio ripeto il questionario che si può fare o per esempio se si ha la pressione alta se si è obesi o pensiamo anche alle donne che hanno avuto una gravidanza a questo punto bisogna solamente fare una glicemia e controllare spero di aver risposto più o meno a tutto certo assolutamente sì chiarissimo grazie mille grazie mille infatti è arrivata una domanda che avrei piacere di leggere da Giuliana Bianco che chiede è vero che gli antipertensivi favoriscono il contagio da coronavirus cosa devo fare cosa devono fare i diabetici che assumono questo tipo di farmaco ci sono stati molti problemi durante la prima ondata legati all'assunzione o meno di farmaci che potevano o meno interagire con il contagio da coronavirus continuare a prendere il farmaco la terapia è la cosa più importante che consiglio vuole dare ai telespettatori continuare a prendere i farmaci c'è stata un'indicazione che alcune classi di farmaci potevano facilitare il contagio non c'è niente di definitivo e soprattutto non c'è niente di basato sull'evidenza è stato dimostrato che non aumentano la possibilità di avere dei contagi quindi mentre invece se uno sospende questi farmaci può andare incontro a dei problemi importanti abbiamo visto che le persone ipertese sono più a rischio di fare malattie serie manifestazioni serie di covid e quindi soprattutto se non compensati e quindi è importante continuare la terapia non sospendiamo qui erano i farmaci, i sartanici, gli asci inibitori che sono stati chiamati in causa non li sospendiamo, non c'è nessun motivo assolutamente Grazie, grazie davvero Daniela io ti chiederei come è la situazione covid in Veneto e se tu hai raccolto delle domande da parte dei tuoi lettori da porre alla dottoressa Suraci allora cominciamo con la situazione in Veneto intanto oggi il Presidente Zai ha annunciato un'ordinanza di assembramenti che i prossimi giorni per quanto è avvenuto nel weekend dove il sole e molte persone ad assembramenti ingiustificati risultati che vedremo tra qualche giorno i dati, allora i positivi attualmente sono più di 50.000 sono 2.700 più di ieri abbiamo 16.000 persone in isolamento circa 900 più di ieri i ricoverati sono 1.696 dei quali 210 nelle terapie intensive dimessi 5.260 persone non è un quadro rispetto a tre regioni però è un quadro che la regione sta tenendo sotto osservazioni come ha detto Zai non saremo come quella non staremo a guardare l'orchestra che suona su Titanic mentre affonda ecco per cui ci si dà da fare per evitare altri problemi grazie, grazie mille allora io chiederei alla dottoressa prego dimmi Daniela scusami no 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 prego prego fai tu dopo sì sì volevo chiederti appunto se le domande che magari i tuoi lettori che possano girare da parte dei tuoi lettori alla dottoressa Suraci se qualche cosa ecco la paura la dottoressa ha già risposto però volevo un attimo magari dettagliarla in modo ancora più preciso un lettore chiede io ho un diabete veramente leggero sono lo stesso a rischio per il covid cioè non assumo farmaci per l'ipertensione non assumo mi limito a stare attento a quello che è la mia alimentazione nessuno a rischio allora sicuramente a rischio e meno a ripeto non è più a rischio di contrarre il virus questo però non significa che non deve assumere le attenzioni che dappertutto vengono ribadite se per caso prendesse fosse contagiato sicuramente direi che in linea di massima può stare abbastanza tranquillo se è solamente a dieta e con questo ha un compenso buono c'è una glicata buona le glicemie buone non è iperteso non è obeso me la sentirei di dire che in realtà è come una persona che non ha il diabete dal punto di vista del rischio di avere una malattia più importante ecco l'ultima domanda poi lascio a Clara e sono asintomatica ma positiva e diabetica cosa devo fare? dunque se i sintomatici valgono le stesse regole che valgono che sono state diffuse dall'Istituto Superiore di Sanità eccetera delle altre persone i protocolli per i soggetti diabetici ne sono tanti fin quando controllare rimanere a casa controllare di più fin quando non compaiono i primi sintomi non è necessario intraprendere una terapia poi sentirà il medico curante una cosa che voglio sottolineare e vorrei dare come messaggio se per caso insorgesse i sintomi e se per caso insorgesse una situazione respiratoria lì dove è consigliato anche una terapia cortisonica di non aver timore che le glicemie aumentano perché abbiamo tutte le armi per tenerle sotto controllo è meglio tenere sotto controllo la malattia da Covid l'infezione da SARS spero con questo di aver dato un attimo di coraggio sicuro in questo caso volevo avvisare volevo dire che purtroppo ci sono alcune persone alcuni miei pazienti diciamo anche di tipo uno giovane che appunto facendo una vita attiva si sono contagiati è andata bene stanno tranquilli quindi vorrei mandare una una parola di conforto in questo senso e di rassicurazione grazie grazie mille allora mancano 5 minuti io inizierei a parlare e andrei alla slide in cui parla della giornata mondiale del diabete perché perché questo primo nostro incontro di adesso dà il via a moltissime iniziative che mi farebbe piacere che lei dottoressa Suraci raccontasse con appunto l'appoggio delle slide che manda adesso la regia prego allora qui è solamente per ricordare che è stata istituita nel 91 appunto dall'IDF che ha lo scopo di sensibilizzare sul tema sul territorio nazionale dal 2002 in pratica Diabete Italia si è assunto quest'onere di coordinare le iniziative andiamo avanti e questo è il sito di Diabete Italia ma lo trovate anche su Motore Sanità con cui quest'anno abbiamo questa collaborazione e ci supporta e sono tutte le iniziative ce ne sono altre purtroppo non abbiamo appunto potuto fare delle attività in presenza e quindi sia sulla pagina Facebook che se andate sul sito vedrete ci sono delle conferenze stampa ma poi dei webinar incentrati un po' sul sul trattamento e sulle problematiche del diabete fino a quando ci sarà la conferenza stampa la riunione finale in cui parleranno un po' tutte le voci delle persone che si interessano e che intervengono nella cura e nella gestione del diabete quindi sia i pazienti che sono i primi ma anche gli operatori sanitari i medici il medico di medicina generale Diabete Italia in realtà raccoglie un po' tutte le voci e in questo senso parleremo di questo grazie grazie mille allora io do appuntamento tra otto minuti alla conferenza stampa di Diabete Italia per dare appunto avvio alla settimana diciamo del diabete che finirà il sabato 14 novembre con l'evento Chiudiamo il cerchio in cui appunto si parlerà della giornata mondiale del diabete se posso se posso chiedere se fate vedere la diapositiva con il poster perché in realtà questa idea di team e quella con l'infermiera questa idea di team che gira intorno e che sta intorno e che collabora con il paziente è importante ed è ripresa dalla da quello che è il tema di quest'anno eccola qua la vediamo qua ecco qui fa la differenza l'infermiera perché ma non è solamente l'infermiera è tutto il team soprattutto un'infermiera competente vi ringrazio grazie grazie mille a lei grazie mille ci ritroveremo nei prossimi giorni grazie mille a tutto il pubblico che ci ha seguiti siamo 320 su Facebook e 35 su Zoom vi do appuntamento domani con dottor Covid e tra poco con la conferenza stampa di Diabete Italia e Motore Sanità grazie mille arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti